Nulla di fatto ieri a Barretta per il bilancio di previsione 2013. La Giunta, riunitasi per approvarlo, si è conclusa con una fumata nera dopo una lunga discussione a tratti così accesa che a un certo punto il sindaco Cascella ha addirittura minacciato le dimissioni. Oggetto del contendere naturalmente il modo di far quadrare conti non allegri. Il sindaco vorrebbe aumentare l'addizionale IRPEF a scaglioni dall'attuale 0,2 sino allo 0,8% per i redditi più alti mantenendo dal 7,6 all'8,6 per mille l'aumento dell'IMU sulla seconda casa. Le forze politiche tramite i propri assessori vorrebbero perseguire a vario titolo o strade diverse come aumentare l'IRPEF dello 0,6 per tutti o portare l'IMU sulla seconda casa al 9,6 per mille in modo da contenere se non annullare totalmente l'aumento dell'IRPEF. Cascella è rimasto fermo sulla sua posizione che però non sarebbe sufficiente a coprire l'intero fabbisogno. Servirebbe infatti reperire per altre strade circa un altro milione di euro. Secondo il sindaco 600 mila potrebbero essere recuperate attraverso la discussione di oneri di urbanizzazione. Per il resto Cascella ha chiesto agli assessori di operare dei tagli di spesa. Su questo si sono lasciati ieri e rincontrati oggi. Naturalmente in tutta questa accesa discussione l'assessore al ramo Lorenzo Chieppa ha svolto un ruolo puramente ornamentale. Anche per questo la volontà è quella di chiudere tutto entro lunedì prossimo quando scadrà il contratto del dirigente Pedone, l'unico che in questa confusione pare continui a capirci qualcosa. Tutto lascia pensare che alla fine prevarrà l'impostazione voluta dal sindaco e che la giunta approverà il bilancio seguendo le sue volontà. Le forze politiche di maggioranza non saranno contentissime ed è molto probabile che quando approderà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva non mancheranno di riproporre le proprie idee sotto forma di emendamenti. Sempre ieri si è svolto un altro incontro. A volerlo la presidente del consiglio comunale Carmela Peschechera che ha convocato i capigruppo per cercare di dirimere la questione relativa alla presidenza dell'ormai famigerata Quarta Commissione. Come noto, Gennaro Calabrese, presidente indicato dal tavolo politico, non fu eletto perché uno degli altri due consiglieri di maggioranza non lo votò. La conseguenza fu che Calabrese e il consigliere di minoranza Flavio Basile ebbero due voti a testa mentre un voto andò disperso. Il centrodestra ritiene che il presidente eletto sia Basile perché Pianziano di età. Il centrosinistra ritiene che il presidente sia Calabrese perché Pianziano come cifra elettorale. Il parere espresso dal segretario comunale Maria Letizia Pittari è invece quello che la votazione dovrà essere ripetuta a oltranza. L'incontro di ieri doveva servire a dirimere la questione evitando, se possibile, una battaglia anche di carattere giudiziario con ricorsi e contro ricorsi. Ne è venuta fuori una comica con proposte una diversa dall'altra alcune serie altre silaranti che vanno dal consiglio comunale monotematico a ricorrere un altro po' alla Corte per i diritti dell'uomo di Strasburgo. L'indicazione più condivisibile ci sembra quella del Partito Democratico e cioè rivolgersi per un parere a Lanci dove certamente sarà una conoscenza di analogie verificatesi in altri comuni italiani. Ci sembra la strada più semplice, garantisce imparzialità rapidità ed evita di continuare a farsi ridere dietro per una vicenda che sta diventando ogni giorno di più veramente penosa. Po' scritto, la Giunta ha deciso che quella specie di notte bianca che si doveva fare non si fa più. Barlettani, andate tutti a Nanna presto.